Salve e benvenuto al video di riscaldamento del corso di cazzotti del Dottor Johnson. Di che si tratta, istruttore? È presto detto, Sanchez. Ti piace il corso di cazzotti? Il corso di cazzotti è fico. Risposta esatta. E vorresti altre lezioni? Le lezioni sono fiche. Di nuovo risposta esatta, ragazzo. E saresti disposto ad allenarti giorno e notte, domeniche incluse, per realizzare le nuove lezioni? Col cazzo! Risposta sbagliata, Sanchez. I nostri amici da casa hanno aspettato due lunghi anni e tu vorresti mandare tutto a monte, Sancio Arancio? Sono costernato, maestro. Fa di me la tua umile gescia. Ogni tuo desiderio è un ordine. Non è divertente. È stata una lunga attesa, è vero? Ma necessaria per dar vita a un progetto ambizioso. Tieniti forte, Sanchez, perché è in arrivo la prima serie ufficiale del Corso di Cazzotti del Dottor Johnson. Wow! Volo a farmi la ceretta! Un'autoproduzione indipendente a cura dei licaoni in collaborazione con QZ Arts. Dopo un lungo riscaldamento, questi ragazzi sono pronti a realizzare nuovi episodi. E li distribuiranno gratis su internet per te. Maestro, ma perché io invece devo pagare una retta? Paci, Sanchez. E continua a dare la cena. Sì, sensei. Basterà collegarsi al sito corso di cazzotti.it per godersi ogni mese un nuovo ed entusiasmante episodio. Con le nuove lezioni potresti diventare imbattibile, eh Sanchez? E magari superare anche me. Io non l'ho detto. Lo hai pensato? No. Coraggio, a me puoi dirlo. Ecco, in effetti, istruttore, il mio sogno è di farle il cu... Sai cosa dice il dottor Johnson? Il dottor Johnson dice Le cose belle richiedono lavoro. È vero! Come il mio Enterprise fatto di cacco! Nuovi episodi, gratis su internet. Ma adesso abbiamo bisogno di te. Inizia il riscaldamento e diventa anche tu allievo del corso di cazzotti. Maestro, ma io non le basto. Sai cosa dice il dottor Johnson? Il dottor Johnson dice Più siamo e più ci divertiamo. Già! Come quella volta in quell'orge tailandese dove mi sono fatto quei... Fai la tua parte. Visita il sito corso di cazzotti.it Seguici su Facebook. Condividi e fai girare questo video. E se puoi, dai un piccolo aiuto ai licaoni per realizzare i nuovi episodi. Sì! Per la puttana! E come? Dona adesso e diventa sostenitore del corso di cazzotti. Accedi al sito, clicca sul banner, entra in palestra. Troverai tutte le indicazioni necessarie per fare la tua donazione comodamente da paypal. Le donazioni saranno destinate all'associazione No Profit e licaoni e verranno utilizzate per il finanziamento della prima serie del corso di cazzotti. Semplice, no? Perfino Sanchez è in grado di farlo. Ehi! Nessuno può prendermi in giro. Diamine Sanchez, hai perso il senso dell'umorismo. Attento al pugno! Ricorda, è una donazione libera. Puoi donare anche un solo euro. E diventando sostenitore potrai usufruire degli esclusivi premi previsti dal tariffario Johnson. E che cazzo sarebbe? Hai detto cazzo troppo vicino alla parola Johnson. Il tariffario Johnson, una guida per scoprire tutti i vantaggi di un sostenitore del corso. Area download privilegiata, accesso a contenuti speciali, gruppo esclusivo su Facebook. Ma soprattutto riceverai l'attestato d'ingresso nella palestra del dottor Johnson, diventando anche tu un allievo ufficiale. Che aspetti dunque? Il riscaldamento è appena iniziato. Chiedi a mamma e dona. Il dottor Johnson conta su di te. Sì, per la puttana! Questo è per aver detto puttana, troppo vicino alla parola Johnson e alla parola mamma. Istruttore, ho tutte le ossa rotte, ma come... Lo so, lo so, ma non hai visto niente. È che sono ancora troppo veloce per te, ragazzo. Ma avrai tante nuove lezioni per imparare. Istruttore, mi dispiace per prima. Non volevo offendere la mamma del dottor Johnson, porca zo... No, davvero, non volevo dire che la mamma del dottore è una mignota. Porca troia... Chiedo perdone, istruttore. Lo so, mi meriterei di vivere con i maiali.